Con 48 voti a favore e 10 contrari, il Consiglio regionale pugliese ha approvato a maggioranza la modifica per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta. Sostanzialmente scompare la parità di genere. Una decisione che ha lasciato scandalizzato il Presidente regionale Vendola che in una propria conferenza stampa ha dichiarato che questa legge elettorale è un mostro giuridico ed è stata scritta una pagina molto brutta. Immaginare soglie di sbarramento differenziata con il 4% per i partiti all'interno di una coalizione e l'8% all'esterno significa che i voti degli elettori non hanno tutti lo stesso peso. Soddisfazione del capogruppo azzurro di Forza Italia Azzurro dicendo che si è superata la forza dei numeri e siamo diventati noi maggioranza.